Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2019 Siamo in Catalunia per il nuovo gran premio con la nostra margheritina Allora andiamo a vedere un pochino com'è la situazione Dovrebbe arrivare la pioggia proprio nell'ultimissima parte di gara Però noi che ce frega Vediamo con l'assetto da asciutto Perché giustamente potrebbe anche arrivare un po' più tardi la pioggia Per quanto riguarda il resto Allora nell'ultimo gran premio di Baku Fortunatamente siamo riusciti a fare una buona prestazione Il GP tutto sommato non è stato un bel GP Infatti vi ho tagliato parecchio perché è stato abbastanza noioso e costante Però tutto sommato ci siamo portati buoni punti a casa La classifica diciamo del mondiale così come i risultati Vede le due Racing Point dominare in modo clamoroso Due primi posti per Weber e due primi posti per Hamilton E poi viceversa ne ho fatto secondo quando il compagno di scuderia ha fatto primo Quindi la Racing Point continua ad essere devastante Anche un po' troppo onestamente Anche un po' troppo noi aspettiamo un po' di migliorie Ma anche se arrivano le migliorie comunque non arriviamo al livello della Racing Point Ma a parte ciò Ho fatto un po' di prove ragazzi Perché come detto negli ultimi GP sto avendo tanti problemi con la frenata E vi dico l'impressione che ho avuto Ho fatto delle prove libere Quindi fuori dalla... non nella carriera Una prova a tempo Dove puoi scegliere l'auto di base L'auto di base ho scelto la Renault Le ho fatte qui a Barcellona con lo stesso assetto che poi ho utilizzato qui E si blocca Sono riuscito a guidare meglio A bloccare meno durante la prova a tempo Quindi significa che il problema Non so se è dato dalla patch effettivamente O se il problema è dato da una delle ricerche sviluppo Che sono state fatte su quest'auto Perché la Renault di base Quella del gioco quando inizi Si guida meglio Questa qui tende a bloccare di più Quindi non so Io... alcuni di voi mi hanno detto che hanno avuto lo stesso problema Provate a fare una cosa L'auto che state usando nella vostra carriera Che vi dà questi problemi nella frenata Provate ad andare nel menu principale di Formula 1 Fate prova a tempo o gran premio singolo Con la stessa auto Versione base non migliorate Ditemi se notate dei miglioramenti da quel punto di vista della frenata Perché magari qualcosa dal punto di vista della patch c'è stata Che ha modificato qualcosa Però ho notato che con la versione base quindi senza ricerca e sviluppo Si hanno meno bloccaggi Non lo so Ditemi anche la vostra così ci confrontiamo ragazzi Perché questi video come ho detto sono mie partite Ma ci chiacchieriamo come tra amici Quindi come si chiacchiera tra amici che hanno lo stesso gioco E direi ma tu hai avuto sto problema Insomma ditemi anche la vostra se avete notato questa cosa E non lo so Vediamo che riusciamo a combinare Eh questo è poco ma sicuro Non sappiamo di chi sarà Forse di un'auto rosa Ma vedremo Vedremo Stati fatto che noi siamo pronti per il giro Come sempre concentratissimi Perché la qualifica è molto importante Molto importante Quindi proviamo a guidare al meglio delle nostre possibilità Barcellona è un circuito che ci porta bene Barcellona è un'auto Barcellona è un'auto Infatti l'auto rosa ha fatto la polla Vabbè Maledizione Settima posizione Oddio lui ci ha detto ben fatto Però onestamente speravo di fare un pochino meglio Anche se è complicata È complicata Webber, Hamilton e Sebastian Vettel Le qualifiche sono finite E ora attendiamo con ansia la gara Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni Vi aspettiamo Devon Butler sta andando bene in questa nuova stagione Rispetto alle prime due dove c'è stato uno sfacello da parte della McLaren Appunto di Devon Butler che è rimasto sempre in McLaren Adesso sta andando meglio Sta andando meglio E noi come detto cerchiamo di fare del nostro meglio Lucas Webber Vabbè è impossibile da battere signori È veramente un Un alieno Beh adesso potremmo definirla una buona qualificazione Dovremmo avere buone possibilità in gara Allora selezioniamo un altro rivale Vabbè questi togliamoli perché non sono proprio fattibili E che ne so proviamo con Vabbè Perez ci abbiamo provato un sacco di volte Charles con Dai Charles con la Ass Vediamo Vediamo un pochino cosa riusciamo a combinare Comunque partiremo in settima posizione Vediamo se in gara riusciamo a fare di meglio Tra l'altro un'altra cosa che ho notato Vabbè questa è abbastanza scontata Però le gomme più morbide La mescola più morbida ci dà più grip Ma ci aiuta anche tanto a Far meglio la frenata Giustamente Ora vabbè poi vi dico Ecco Vediamo ora la griglia di partenza Vediamo un pochino se c'è stata qualche variazione Vi stavo dicendo Per quanto riguarda Ora a parte le qualifiche Forse ho bloccato un pochino di più Di quello che ho fatto nelle prove libere Ok Questo anche perché in qualifica Giustamente si tira di più Si spinge di più E quindi si rischia E si sbaglia anche un po' di più Però nelle prove libere ho notato Che con le medie Bloccavo tanto Medie e dure bloccavo tanto Con le soft un pochino meno Però come detto Poi in qualifica E anche in gara C'è più tensione Io vado però 6-11 giri Io terrei un po' di più Queste soft Perché dovrebbero Reggere Pochino meglio 17 giri Quindi benzina Io ragazzi A benzina Iniziamo a fare un po' meno 16-5 Tanto Ne consumiamo meno Ne Mettiamo Utilizziamo anche la miscela grassa All'inizio Però nelle fasi Avanzate Dove Più o meno Possiamo ogni tanto mettere anche la normale Andiamo a recuperare Un pochino Quindi anche se andiamo in rosso all'inizio Non fa niente Voi come sempre mi raccomando Lasciate like Condividete Per supportare la serie E il canale Se amanti dei racing game Date un'occhiatina anche a Grid Che abbiamo iniziato Da un po' Ci sono già degli episodi E niente signori Andiamo in gara Vediamo se la nostra Margaritina Riuscirà A farsi valere Attenzione a Charles Stavamo per Frociarciarci Con Pierre Gasly Mentre all'interno C'è sempre Charles Attenzione 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 Ma In duella In duella Si può fare di più Come ho detto Poi Benzina Recuperiamo Dai E' così Nonostante il bloccaggio Abbiamo fatto comunque una traiettoria Migliore Che all'interno a volte Riesce a difendere Ma poi si trova in difficoltà Madonna mia Le facciamo Sfiammare Sti pneumatici Signori Spero che Possano Durare Però Che tutti quei giri Spiattellando Non so Fino a che punto Possa andare bene Davanti a Butler C'è anche Hulkenberg Il nostro compagno di scuderia Che poi E' il nostro primo rivale Come sempre Rallentato un pochino Da Sebastian Vettel Vai vai Dovevo avvitare un po' meglio Dovante Che sono un po' troppo Attenzione Hulkenberg Prova ad attaccare Sebastian Che però resiste Scalatina per rientrare Guarda la ruota a ruota Stanno facendo tutto il giro Signori Resistono tutti e due Grande lotta E alza il piede Sebastian Hulkenberg Si prende la Posizione Vai vai Grande così Grande così Bellissimo Questo sorpasso Su Devon Butler Era difficile Passare lì Se non impossibile E niente L'abbiamo sbagliata La prima Signore Quando sbagli La prima Sbagli tutte Maledizione Vai che comunque Il motore Della Renault E' buono Quindi Butler Non ci dovrebbe Recuperare Poi abbiamo Anche noi Il DRS Strano che Hulkenberg Non è riuscito A tenere No Sta tenendo La posizione Su Vettel Perché il motore Ferrari E' un po' Meno performante Del nostro Motore Che Anche senza DRS Dovrebbe Comunque Riuscire a Essere più Prestante Per il momento Buona gara Da parte No No La voglio sentire Probabilmente Stiamo distruggendo I pneumatici Ma non me ne frega Niente Qua cerchiamo Di andare Un po' Più Con calma Cerchiamo Di Non sbagliare Così Approfittiamo Sul rettilineo Vai vai Ci stiamo Avvicinando Il filo Il filo Il filo Conteremo Come Medie Citratissimi Signori Attesissima Questa gara Questa lotta Per Quarto E terzo Posto Le due Racing Point Vabbè Se ne sono andate Si è avvicinato Anche Devon No Mamma mia Stavo a perdere Il posteriore Ho dovuto Controsterzare Un pochino No È tosta Signori È tosta Perché Comunque Sbagliamo Sbagliamo Tanto Diciamo La verità Però La guida È la nostra guida Aggressiva Insomma È la nostra Classica guida Sportiveggiante Aggressivissima Facciamo rifiatare Un po' Il motore Signori Si surriscalda E comunque Non riesce A dare Il meglio Di sé Anzi Forse L'erogazione È così Anche più Morbida Quindi Ci permette Stiamo guidando Meglio A conti Fatti Vai Vai Che giro Ci fermavamo Il settimo Non mi ricordo Qua siamo Più vicini Qua La grassa La usiamo Vai Merda No Maledetti Li avevamo passati Ma ci hanno Hulkenberg È andato lungo E noi Per non Cozzarlo Ho dovuto Alzare tantissimo Il piede Ci siamo fatti fregare Tutti e due Da Fettel Avevamo fatto Un sorpasso Spettacolare Maledizione Eh però Per non Andare a Sbattere A Nico Hulkenberg Che giustamente Non voleva Lasciare La posizione Ti stiamo Aspettando Rientra A questo Giro Piano piano Ma figlio di Troia Ma se io ti avevo Ho detto che Rientravo io Perché Ho fatto Entrare Hulkenberg Sta di Cazzo Il distacco Dal tuo Compagno Dietro Di te Abbiate pazienza Ragazzi Ho dovuto Fare Sta cosa Che ci ha Fatto Perdere Tantissimo Ma Se stavo Insieme Cioè Se rientravamo Con Hulkenberg Perdevamo Ancora Più Tempo Ma scusa Te l'ho Detto Prima Che Rientravo A sto Giro Che cazzo Che cazzo Gliel'abbiamo Detto a fare Allora Madonna Quanto tempo Abbiamo perso Qua Lo scopriremo Solo strada Facendo Signori Mi raccomando Fermati A ibox A questo Giro Bella strategia Giovani Lo dovete Fa fermare Prima O dopo Scusa Se io Ti vado A cambiare Strategia Prima Non è Che l'ho Cambiata In corso Che dici Che Crei Dei Problemi T'ho Avvisato Prima E vabbè Signori Che dobbiamo Fa Vediamo Quanto Abbiamo Perso Maledizione Maledizione E così Siamo Siamo riusciti A fare Evidentemente Un buon giro Un buon giro Nonostante Tutto Mentre Hulkenberg Sta lottando Con Devon Butler Ha perso Un pochino Su Sebastian Vettel Noi adesso Dobbiamo Mantenere Un po' La miscela Standard E Cercare di Contenere La Ferrari Di Seb Occhio Al rettilineo Principale Perché qua Vabbè Un po' Più Difficile Superare Però Sul rettilino Principale Certo Come detto Il motore Renault Spacca Il motore Renault Spacca Però Abbiamo Un buon Vantaggio Abbiamo fatto Una buona Ultima Curva Dobbiamo Rimanere Concentrati Signori Mancano Sette Giri Anche Anche In questo Caso Non so Se Vi farò Detaglio Se ci Totremo L'attenzione Nel momento Dipende Un po' Da Sebastian Se si fa Sotto O meno Il distacco Il distacco Della vettura Che ti precede È 10,8 Secondi Sta di fatto Che Le due Racing Point Stanno Veramente Cioè Sta cosa Da Racing Point Sta un po' Distruggendo Il campionato Quindi Boh Spero 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 che Magari A fine Stagione Con il cambio Regolamento Cambi Tanto Perché Sennò È finito Il gioco Cioè O siamo Costretti Ad andare Lì Per vincere Qualcosa Però Forse Hanno voluto Bilanciare Troppo Il fatto Che Negli Scorsi Anni Per Arrivare Al massimo Della ricerca A sviluppo Ci volevano Dieci anni Quindi Dovevi stare Dieci anni Con una stessa Scuderia Qualcuno Cioè Giustamente Magari Un po' Uno ci si può Anche lamentare Dice Vabbè Se voglio Cambiare Un pochino Non riuscirò Mai a fare Tutte Quelle Modifiche Stavolta Però L'hanno reso Troppo Veloce Bello Sì Il fatto Che Cambi Velocemente A livello Prestazionale Però Un po' Troppo Devo dire la verità Un po' Troppo Perché a volte Anche io Per carità Mi sono Un pochino Lamentato Il fatto Che effettivamente Per migliorare Tanto l'auto Ci voleva Troppo Troppo Tempo Però Ecco Forse sarebbe Stato Una via Di mezzo Dai Magari In cinque anni Riesci a Fare un'auto Al top In due E poco Perché adesso Siamo All'inizio Della terza Stagione Già Ma Anche la Renault Noi l'abbiamo Migliorata al massimo Dobbiamo aspettare Che arrivino Le altre componenti Magari si può Migliorare qualcosa Dal punto di vista Della resistenza Eccetera Però Insomma Nell'arco di questa Stagione Si riuscirebbe A fare tutto Però Vediamo Vediamo Come detto Spero che magari Il cambio Il cambio di regolamento Vada A modificare Tantissimo Le prestazioni Di Tutti Di tutti Magari Sabotare un pochino La Resin Point Eh lo dico Così in amicizia Con quella benzina L'abbiamo recuperata Abbiamo fatto Il nostro Miglior giro Nonostante io Stia parlando Anche un po' Troppo Però era per dirvi Questo Di solito Quando si chiacchiera Ci si perde La concentrazione Però Fortunatamente Magari Fettel L'ha persa Più di noi Magari sta Ghiacchierando Anche lui Anche Fettel Sta facendo Il suo gameplay Commentary E Stiamo andando bene Signori Stiamo andando bene Stiamo girando Puliti Qualche bloccaggio Ci sta Come detto Che devo dire Ormai Quest'è Ci dobbiamo Abituare Però Già qua E' andata Un po' Meglio Mi sono anche divertito Di più Non so voi Sempre terza posizione Abbiamo carburante Sufficienza Per altri 5 giri Come Bagu Ma Bagu E' stata una rottura Di balle Qua invece Almeno Fino adesso Certo ora Abbiamo Un discreto vantaggio Su Fettel Quindi Forse anche qui Vi andrò a tagliare Un pochino Però Fino ad ora La prima metà di gara Fino al pit E' stata bellissima Con sorpassi Contro sorpassi Lotte Rischi Quindi Bel GP E Adesso direi Si Tagliamo un pochino Così verso La fine della gara Mettiamo Hotlap E Miscela grassa Per quest'ultimo giro Facciamocelo Di prepotenza Anche se L'auto Ci ha comunicato Che sta iniziando A perdere Un po' di potenza Il motore Inizia a cedere Quindi prossima gara Oddio no Prossima gara È Monte Carlo Quindi no Non lo cambiamo Tanto Non so dove Riusciamo ad arrivare A Monte Carlo In questa condizione Bagu Ci abbiamo fatta Ma Monte Carlo La vedo difficile Ci proveremo Ci proveremo Reggio anche un pochino Meno Però dai Miglior giro della gara Penso sia impossibile Perché quelli là davanti Ecco qua Weber Ha fatto Giro veloce lui All'ultimo giro Niente Noi stavamo provando A fare Del nostro meglio Ma è impossibile Apparentemente Andare a Competere Con le Racing Point Abbiamo fatto Il nostro miglior giro Ma non il miglior giro Della gara Comunque bel GP Dai A parte La seconda metà di gara Dove non c'è stato niente Vettel Non riusciva a tenere Il nostro passo Però la prima metà È stata fighissima Dai Parte la strategia E boxe È da rivedere È da rivedere Tutto signore È una È buggata È buggata La strategia migliore La più adatta È le condizioni Del tracciato E il pilota È stato impeccabile Nell'eseguire alla perfezione Gli ordini di scuderia La dimostrazione lampante Di come in Formula 1 Il gioco di squadra Si ha tutto Oggi la prestazione Della Racing Point È stata degna Di una scuderia storica Si stanno avvicinando Al podio Proprio in questo momento E immagino Che il boato Del pubblico Si ha musica Per le loro orecchie Comunque Il secondo terzo posto Per noi Non è male Dai Come detto Nonostante i problemi Anzi Qui mi Mi sono divertito Poi alla fine L'importante è divertirsi Ragazzi Siamo arrivati i terzi Ci siamo divertiti È buono Se poi arriviamo Quindicesimi Ma ci divertiamo uguale È lo stesso Quindi molto bene L'importante è divertirsi 1,18 e 4 Eh 4,10 Noi Eh Eh Scorro perfetto Della Racing Point Non è vero Restate con noi Perché il prossimo Gran Premio È già dietro l'angolo Sì È incerto tra Weber e Hamilton Lo sai che dobbiamo fare Dobbiamo Alla prossima finestra di mercato Noi andiamo alla Racing Point La facciamo schiantare ogni volta Anzi Andiamo a sbattere contro Il nostro compagno di scuderia Della Racing Point E la facciamo perdere E poi ci licenziano Va bene Va bene Vediamo un po' se Le interviste ce ne fregano Poco e niente Onestamente Stavi zigzagando Tra gli altri piloti Durante la corsa Ehm In realtà Non ci servono Altri sconti Vabbè dai Vuoi che non ci servono Ehm Dai Facciamo un po' questo Hai qualcosa da dire Sulle collisioni? No Vabbè che collisione Ci siamo un attimo toccati Ogni tanto con qualcuno Il tuo ex compagno di scuderia Sta guidando la classe Non me ne frega niente Onestamente Beh Ciao Grazie lo stesso E basta Con queste interviste Rompiballe Signori No comment Arrivederci e grazie Ci vediamo alla prossima Dai Allora Allora Grande prestazione Comunque per la nostra Renault Quest'oggi Eh Grande prestazione Bene così No no Lamentare No no Anzi Va bene dai ragazzi Io direi che ci possiamo Salutare qui Con questo episodio Di Formula 1 Stiamo aspettando I nostri Le nostre migliorie Che arrivano Una in Canada E una a Monaco L'aerodinamica Al prossimo GP E il motore In Canada Vabbè Al prossimo GP a Montecarlo Cercheremo di fare del nostro meglio Possiamo Che possiamo fare Guarda A sto punto Sti punti ce li abbiamo Usiamoli qua Vabbè Prossimamente Ok Ragazzi Come detto Mi raccomando Lasciate like Condividete Seguitemi su Instagram Facebook e Twitch Per le live Ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti Da Queltaleale Ciao